Buongiorno a tutti! Siamo qui in diretta da Loli dei Village, una buona giornata di sole ma c'è un forte vento, un vento molto presente, infatti io direi, anzi lo dico al nostro cameraman, al nostro responsabile web, di rientrare all'interno, anzi così vi facciamo vedere la nostra bellissima sala Mimì. Venite con me, eccoci qui, siamo nella nostra splendida sala Mimì, rinnovata quasi totalmente e io andrei a presentare insomma il menù di oggi, anche perché abbiamo qui i nostri due splendidi chef. Eccoci qui, i nostri due grandissimi chef. Buongiorno, allora prima abbiamo un'altra vetrina clamorosa ma prima di tutto devo presentare una persona fondamentale del Michelangelo, il nostro grande chef Michele. Di nome di fatto grande signore. Molto grande. Vieni prego prego. Michele presenta tu, che ci hanno portato questa mattina. Oggi abbiamo delle orate fresche, assici freschissimi, polipo fresco, gamberetti, scampi eccezionali, bellissimi, tutto ancora vivo, veramente splendidi. Una vetrina eccezionale che fa venire soltanto voglia di mangiare. Qui ci facciamo un'altra un milione di ricette ragazzi, facciamo rombo con la patata novella, poi oggi grande piatto che si può fare solamente quando hai queste cose qui. La catalana la puoi fare solamente con gli assicili, perché se no è un piatto immangiabile signore e da noi al Michelangelo la trovate. Vi aspettiamo, buona giornata a tutti. Buona giornata. Buona giornata.